Ciao e bentornato sul mio canale. Oggi andremo avanti con le missioni e dovete andare a cliccare sui cerchi rossi che vedete in mappa, aprendo la mappa in questo nuovo mondo. Utilizzando la spada inizierete una missione. Ora vediamo come andare avanti al meglio con questa missione. La missione si chiama un'abenzione miope. Allora dobbiamo inseguire l'NPC che ci presenta la missione e quindi adesso lo faremo e ogni tanto dovremo affrontare alcuni nemici come per esempio adesso qui le lucertole e poi più avanti anche dei goblin. Allora dobbiamo inseguire. Andere Anche Un'abbiamo Ok Un'abbiamo Un'abbiamo Grazie a tutti